semmai se la vuole due piani le faccio due piani cioè ragazzi come la villa no non dimmi che è qua ti faccio fuori non ci provare non ci provare ad entrare ti faccio fuori adesso anche voi e dove sei finito tu maledetto mica nella casa di Nicole ci vai poi puzza ecco